ben giunti oggi ci avventuriamo per questo secondo capitolo del libro degli eroi la storia di rexar il nostro hunter l'unico e solo campione dell'orda che ci porta nella sua coraggiosa missione il libro degli eroi di herston e completamente gratis per tutti i giocatori sconfiggendo tutti e gli otto boss di questa avventura possiamo ottenere una busta dove troveremo tutte carte del cacciatore che questa è l'unica nota positiva perché per un'altra volta come nel primo capitolo quello di gina è tutto molto facile tutto molto scontato tutto molto poco divertente però comunque visto che herston e visto che siamo super appassionati questo gioco continuiamo a giocarci e quindi vi lascio con tutte le otto sfide che dovete guardarvi e sentirvi anche una musichetta di sottofondo che ho remixato per voi avanti tutta ciao da spettacolone e ci vediamo alla prossima ma non vi scordate like commento e iscrizione al canale ciao ciao Grazie a tutti. 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 a tutti.